ah ah cin cin dal rosicino a lette di pollo alla birra dovete fidarvi di me bisogna avere fiducia butto anche achei della fantastica Aggiungere un po' di un po' di un po' di un po' di uno. a 2kun . . . . . . . la fiducia quando si ha fiducia le cose vengono bene però bisogna anche sapersi fidare delle persone giuste e delle cose giuste quindi ci vuole esperienza pacchette pronte